L'AIL, l'associazione contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, tra le iniziative per festeggiare il cinquantennale, ha presentato il libro La scelta volontaria, un modello di impegno civile. Ne parliamo con l'autrice Alessandra Turrisi. Di cosa parla il libro? Parla della storia di AIL Palermo, la sezione di AIL Palermo, 25 anni di impegno civile sul territorio. È nata praticamente all'indomani delle stragi di mafia e ha in qualche modo convogliato l'impegno di tanti volontari che volevano fare qualcosa per la città e soprattutto per coloro che in città soffrivano a causa della malattia onco-ematologica. E da lì è nata una grande avventura. Quali sono le attività più importanti della sezione AIL di Palermo? Le attività più importanti sono intanto l'assistenza ai malati, principalmente all'ospedale Cervello di Palermo, dove ha sede l'AIL e dove c'è il centro di trapianti di midollo osseo. Un centro trapianti voluto fortemente dai volontari e i primi soldi sono stati raccolti con una meravigliosa partita del cuore con la nazionale cantante e la nazionale piloti, pensate, nel 1993. Poi ci sono voluti sette anni per realizzare questo reparto che è una grande speranza per tutti coloro che si ammalano e che non partono più per ricevere le loro cure. E poi tante altre attività di sostegno ai familiari dei malati, oltre che ovviamente la raccolta di fondi per sostenere la ricerca, l'assistenza domiciliare. Voi pensate che a Palermo abbiamo due case di accoglienza per i malati fuori sede e per i loro familiari. E uno di questi è in un bene confiscato alla mafia. Cosa è cambiato nei 25 anni dalla fondazione della vostra sezione? Beh, in 25 anni è cambiata intanto la città, è cambiata la sanità. Pensate che alla metà degli anni 90 si moriva per lo più di queste malattie. Adesso si vive, e si vive bene, e si vive a lungo. E quindi è migliorata la qualità della vita dei pazienti. E dunque la sezione e i tantissimi volontari, circa 200 che a Palermo operano, tra Palermo e Trapani, possono dedicarsi a tantissime nuove attività. Abbiamo sempre avuto a fianco tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno aiutato nella raccolta fondi, durante spettacoli di beneficenza. Uno di questi, proprio all'origine, è stato proprio Gianni Morandi, noto ovviamente in tutto il mondo, che ci ha voluto regalare in questo libro una sua testimonianza.